le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di sabato 11 febbraio ariete questa luna può essere anche insidiosa perché vi fa commettere degli errori di distrazione sul lavoro anche l'amore vi innervosisce toro cominciate a capire che certe iniziative che avete preso sono azzeccate questo vi mette di ottimo umore una giornata ideale gemelli mercurio in acquario è un sostegno magnifico perché può mettervi in comunicazione con tante persone nuove in amore dovete avere solo un po di pazienza cancro non proprio di ottimo umore a causa della luna negativa però c'è da dire che non perderete l'ottimismo l'amore vi regala momenti intensi leone in amore manca sempre qualcosa per farvi dire di essere soddisfatti e felici ma forse siete voi ad essere incontentabili il fuoco che vi arde dentro si spegne troppo presto in amore vergine è un momento un po confuso per voi specialmente in amore avete dei dubbi in relazione ad una storia appena cominciata oggi è il giorno giusto per togliervi qualche dubbio bilancia oggi la luna è nel vostro segno sarà una giornata molto positiva in linea con questo periodo che vi regala belle emozioni mercurio sole in acquario vi chiedono di dare il massimo sul lavoro scorpione una luna romantica illumina il vostro amore all'improvviso vi riscoprite sognatori grazie a questa venere in pesci una vacanza può rivelarsi galeotta sagittario la luna di oggi vi mette in comunicazione con persone interessanti che possono darvi dei suggerimenti molto utili in amore vi capita di essere corteggiati capricorno più scontrosi del solito soprattutto in famiglia ma del resto già da qualche giorno si respira un'aria pesante tra le pareti domestiche concedetemi una serata tra amici acquario giove luna in posizione meravigliosa è una giornata contraddistinta dalle emozioni dall'amore dalle soddisfazioni in amore dovreste prendere il primo treno e raggiungere un posto romantico pesci marte in una posizione delicata allogora i vostri nervi e oggi vi sentirete particolarmente nervosi a causa della stanchezza cercate di non esagerare con le critiche al partner e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus grazie a tutti